Caso di presunto bullismo, 15enne torna a casa. Rissa di San Domenico, patteggiano in quattro. Gela sequestrata, attività commerciale adibita al lavaggio. PD Caltanissetta capolista nelle liste a sostegno di Ellish Lane. Inail, vittime da covid nella sanità, domande di sostegno per i familiari. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Caltanissetta, caso di presunto bullismo, torna a casa uno dei due giovani indagati e accolta la richiesta dell'avvocato. Il servizio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta ha accolto la richiesta di scarcerazione per uno dei due quindicenni accusati di aver torturato e sequestrato un ragazzo di 13 anni nel quartiere Badia, il 7 settembre scorso, nel capoluogo Nisseno. È stato Massimiliano Bellini, legale del giovane che in questo periodo è stato detenuto nell'Istituto Penale per i Minori di Palermo, a presentare la richiesta. Il quindicenne sarà sottoposto all'obbligo della permanenza a casa. Secondo l'attività investigativa, il giovane avrebbe attirato, con la complicità di un amico, il tredicenne all'interno di un garage con l'inganno. Il ragazzino sarebbe stato legato a una sedia, con la bocca tappata dal nastro da imballaggio. Inoltre sarebbe stato intimidito con un coltello, schiaffeggiato e minacciato di dargli fuoco, cospargendolo di olio per motori. Dopo un'ora e mezza sarebbe stato liberato e minacciato di morte, qualora avesse rivelato quanto accaduto. Rissa di San Domenico, risalente al 25 novembre scorso, patteggiano in quattro. Le quattro persone protagoniste della rissa San Domenico, il 25 novembre, che terminò con la tragica morte di Marcello Tortorici, hanno deciso di patteggiare la pena di lesioni. Due anni e otto mesi per Salvatore Michele Fiore, rispettivamente il padre e il fratello di Kevin Fiore, ritenuto dagli investigatori l'autore della coltellata mortale alla vittima. Pena concordata anche per Massimo Tortorici e Rosario Millaci, a due anni e sei mesi. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 25 novembre scorso i cinque si erano dati appuntamento in via San Domenico a Caltanissetta, con l'intento di chiarire una vicenda relativa a degli apprezzamenti che il figlio di Millaci avrebbe rivolto alla fidanzata di Kevin Fiore. La situazione poi è degenerata in una rissa terminata con il ferimento mortale di Marcello Tortorici. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 48enne in attuazione del provvedimento di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica della Corte d'Appello di Caltanissetta, l'ufficio esecuzioni penali per il reato di bancarotta fraudolenta. L'uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare in carcere la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Gela. La Guardia Costiera, il nucleo operativo di polizia ambientale, ha sequestrato un'attività commerciale che era adibita al lavaggio. Il nucleo operativo di polizia ambientale, nei giorni scorsi, a margine di una costante attività di monitoraggio degli scarichi industriali presenti nel territorio di Gela, ha disposto la chiusura di un'attività commerciale adibita al lavaggio auto nel comune in provincia di Caltanissetta. L'attività è risultata essere sprovvista del provvedimento autorizzativo dal punto di vista ambientale. Lo scarico prodotto dall'attività di lavaggio auto finiva direttamente nella fognatura. Per questi motivi, l'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro preventivo, mentre il titolare, al quale è stata inflitta un'elevata sanzione amministrativa, è stato deferito alla locale procura della Repubblica. L'operazione portata a termine dimostra il costante monitoraggio del contesto ambientale da parte del personale della Capitanieria di Porto di Gela su tutto il territorio, con particolare attenzione alle attività che possono danneggiare le risorse idriche. Parliamo adesso del PD. A Caltanissetta, capolista nelle liste, a sostegno di Elish Lane, intervento di Giuseppe Provenzano. Si avvicina sempre più il 26 febbraio, giorno in cui si svolgeranno le primarie del Partito Democratico e a tal proposito interviene il PD San Cataldese, rivolgendo un invito alla cittadinanza a partecipare alle elezioni. Le primarie rappresentano un momento importante per la comunità del Partito Democratico, un esercizio di democrazia e di apertura a tutta la cittadinanza, si legge nel comunicato stampa firmato dalla segretaria del circolo PD di San Cataldo, Martina Riggi. Un momento di dialogo e confronto, pertanto ci auguriamo che San Cataldo parteciperà a questo importante momento di cambiamento per il nostro partito. Si potrà votare anche nei 26 in provincia di Caltanissetta e in particolare a San Cataldo. I gazebo saranno in piazza Papagiovanni XXIII, aperti dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Due i candidati alla carica di segretario nazionale del Partito, Elislein e Stefano Bonaccini. In un'ottica di un vero cambiamento all'interno e all'esterno del Partito Democratico, il mio sostegno va a Elislein, sottolinea la segretaria del circolo San Cataldese, per un nuovo Partito Democratico che non abbia timore di essere finalmente un partito di sinistra, femminista ed ecologista insieme. Per un PD dei diritti civili e sociali, per tutti e tutte. Per un PD che sia finalmente la voce di giovani, donne e lavoratori. Per un PD che sia dalla parte degli ultimi, dei discriminati, degli svantaggiati, dei precari. Ma per cambiare davvero il PD, il cambiamento deve partire da noi. Con Elislein il 26 febbraio cambiamo insieme. Il mio voto per Schlein è ancora più convinto data la presenza di Fausto Terrana, San Cataldese, giovanissimo segretario provinciale dei giovani democratici. Come capolista per l'Assemblea nazionale, afferma ancora Martina Riggi. La presenza di Terrana, infatti, garantirebbe non solo un vero cambiamento per il PD, ma anche un'importantissima rappresentanza territoriale nel Partito Nazionale. Anche il deputato del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, fa riferimento a Fausto Terrana. La federazione di Caltanissetta ha avuto un importantissimo riconoscimento, vedendosi riconoscere nelle liste per l'Assemblea nazionale, a sostegno di Elislein, il ruolo di capolista in un collegio che ricomprende anche le province di Siracusa e Ragusa, spiega. La scelta è stata di un profondo rinnovamento con la candidatura di Fausto Terrana, segretario provinciale dei giovani democratici. Un ragazzo di grande talento politico, ma questo riconoscimento è il frutto di un lavoro collettivo, come testimoniato dal risultato ottenuto nella consultazione degli iscritti che a Caltanissetta ha visto prevalere la proposta di Schlein. Per questo bisogna ringraziare, prosegue il deputato, anche coloro che non sono in lista, ma che attraverso i comitati locali, penso a quello di Caltanissetta con Carlo Vaginelli, e a quello di Gela con Licia Bela e altri hanno già dato un contributo determinante che sarà ancora più prezioso domenica con le primarie aperte, conclude, che mi auguro sia in una festa della democrazia e un punto di ripartenza del nostro partito nella provincia. Si è spento Lino Lacagnina, una vita per il giornalismo, per diversi anni è stato conduttore di una delle trasmissioni sportive più seguite in città. Si è spento, all'età di 74 anni, Lino Lacagnina, una vita per il giornalismo. Era pubblicista dal 1974. Collaboratore del quotidiano La Sicilia da diversi lustri, si occupava di politica e istituzioni. È stato per anni anche conduttore di una delle trasmissioni televisive più seguite degli anni Ottanta a Caltanissetta, seguendo la Nissa in Serie C2. Nelle immagini che vi proponiamo si festeggiava proprio la Nissa promossa in Serie D, con Salvatore De Luca e il club bianco scudato al gran completo. Era il 1984. È stato anche direttore responsabile del periodico Cartagio del comune di Caltanissetta. L'amministrazione e la redazione di Telefutura Nissa esprimono le più sentite condoglianze ai familiari. È morto Pippo Grosso, una vita per la radio. I funerali saranno sabato prossimo, 25 alle ore 15 e 30 in cattedrale. Si è spento questa notte all'età di 79 anni Pippo Grosso, fondatore e direttore di Radio CL1, stroncato da una malattia incurabile. È stato pubblicista del giornale di Sicilia. Tra le sue passioni lo sport, in primis il basket praticato con determinazione, e il calcio, vissuto soprattutto da attento cronista. Con la sua radio seguì la Nissa anche nei tempi d'oro della Serie C2. La radio è stata comunque una parte importante della sua vita, sin dalla fine degli anni 70, nel momento di massima espansione delle emittenti locali. L'amministrazione e la redazione di Telefuturanisse esprimono le più sentite condoglianze ai familiari. I funerali sabato alle ore 15 e 30 in cattedrale. È tempo di quaresima, tutti i venerdì il tradizionale appuntamento con la via Crucis. Parla il parroco di San Domenico, padre Alessandro Rovello. Si vestono di viola le parrocchie durante i 40 giorni che precedono la Pasqua, un colore che contraddistingue il tempo di attesa, la notte che precede il giorno e il buio che lascia lo spazio alla luce del Cristo risorto. Il periodo della quaresima è caratterizzato da diversi segni che nascondono a loro volta dei significati, come nel caso delle ceneri. Io penso che il segno della genere sia un segno molto forte. Secondo me ricorda due dimensioni. La prima è la dimensione della fragilità. Siamo fatti di terra, siamo piccoli dinanzi ecco alla immensità dell'universo e della storia dell'umanità. Eppure questa nostra fragilità, questa nostra debolezza è abitata dallo Spirito di Dio, così dal libro della Genesi, quell'uomo fatto di fango riceve il soffio di Dio che gli dà la vita. Quindi la genere ci ricorda questa prima dimensione, ma ce n'è un'altra anche interessante. Il mercoledì delle ceneri introduce un tempo, come abbiamo già detto, che poi è il tempo della luce, la notte della Santa Pasqua, si accende il bracere, si accende il fuoco nuovo e da questo fuoco nuovo si accende anche il cero pasquale. Certamente ci sono questi segni di gioia, di riconciliazione, di pace. Le palme, gli ulivi indicano l'ingresso del Dio con noi, dell'Emmanuele a Gerusalemme, un ingresso gioioso, un ingresso festoso. Ma questi segni hanno sempre rappresentato anche per tutti, e in particolare per noi cristiani, segni appunto di riconciliazione. Durante i venerdì nelle parrocchie si svolge la Via Crucis e i credenti vengono chiamati a fare delle rinunce, come l'assinenza delle carni, ad esempio, sempre il venerdì, o a momenti di digiuno, pensando non soltanto al cibo, ma anche alle cose materiali. Che forse servono all'uomo per riscoprire ciò che è essenziale, in una realtà, in un mondo come quello in cui viviamo, in cui tante volte, non sempre, ma tante volte siamo sopraffatti dal superfluo. C'è un forte invito a riscoprire ciò che è davvero utile per la nostra vita, per il nostro presente, per il nostro futuro e per il nostro spirito, e d'altro canto c'è, accanto a questo invito a riscoprire ciò che è essenziale, in questo tempo c'è un forte invito alla solidarietà, o direi cristianamente, alla carità. Non basta fare delle rinunzie, ma bisogna fare delle azioni di bene, fare delle azioni di bene. Non basta togliere il male, bisogna potenziare il bene. Attraverso piccoli segni il Signore non chiede grandi cose, ma se tutti riusciamo a fare dei piccoli passi nella via dell'amore, sicuramente il mondo migliorerà e si trasformerà secondo la volontà di Dio. INAIL, vittime da Covid nella sanità. Il 4 marzo scade il termine per presentare le domande di sostegno per i familiari. L'INAIL comunica che i familiari dei medici e di tutti i professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari vittime del Covid, hanno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda e ricevere il contributo economico una tantum. Sul portale dell'INAIL è attivo l'apposito servizio online, come previsto dall'accordo di collaborazione sottoscritto il 29 dicembre fra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia delle Presidenze del Consiglio dei Ministri e l'INAIL. E le domande dovranno essere presentate sul sito dell'Istituto attraverso il servizio online speciale elargizione familiari vittime Covid-19 e dovranno riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto come con causa del contagio da Covid, contratto nel periodo di emergenza, compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. La domanda può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. All'istanza dovrà essere allegato il titolo professionale del lavoratore deceduto. Il contratto di lavoro è la documentazione sanitaria comprovante l'insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come con causa del contagio da Covid avvenuto nel periodo emergenziale. Il questore di Caltainsetta Emanuele Ricifari ha consegnato le medaglie di commiato che il capo della Polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza e il prefetto Lamberto Giannini ha attribuito con sentimenti di profonda riconoscenza ai poliziotti che hanno lasciato il servizio attivo per i raggiunti limiti d'età nel corso del 2022. Durante la cerimonia nella Sala Emanuele Aloi della Questura Nissena alla quale hanno partecipato i rappresentanti della sezione dell'AMPS di Caltainissetta il questore ha rivolto ai neopensionati attestazioni di viva gratitudine per l'attività svolta con onore e disciplina al servizio della collettività nella quotidiana affermazione dei valori della legalità e solidarietà. A scuola di sicurezza con la Polizia il treno della legalità fa tappa a Caltainissetta. Train to be cool fa tappa anche a Caltainissetta nell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo. Gli agenti della locale Polizia Ferroviaria hanno infatti incontrato gli studenti del secondo anno. Due giornate tra slide filmati e persino giochi che hanno permesso di testare la capacità di attenzione e influenzabilità dei ragazzi ma anche di far conoscere i pericoli dell'ambiente ferroviario. Si prevedono altri incontri durante l'anno nelle scuole di ogni ordine grado di Caltainissetta e provincia. Train to be cool è un progetto ideato nel 2014 dal servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, si legge nel comunicato, rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine grado che soffruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggio a livello o linea ferroviaria. Sono numerosi infatti gli studenti che ogni giorno viaggiano per raggiungere la scuola e durante gli incontri ai giovani sono state illustrate le infrastrutture delle stazioni. È stato spiegato come comportarsi per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri in prossimità di treni e passaggi a livello, senza dimenticare l'aspetto dell'uso dei cellulari che potrebbero essere causa di distrazione se utilizzati in modo inopportuno, non tralasciando il tema dei selfie, i momenti e situazioni poco sicure o ancora l'ascolto di musica con le cuffie. La conseguenza infatti potrebbe essere l'isolamento dall'ambiente circostante e questo potrebbe incidere sulla risposta ad un eventuale pericolo. Passiamo adesso allo sport. Calcio Serie D San Cataldese sul campo del Santa Maria Cilento. Fischio d'inizio alle 14.30 di domenica. Con l'arrivo del fine settimana è tempo di tornare in campo per la San Cataldese in occasione della venticinquesima giornata del girone I di Serie D. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Real Aversa, il calendario condurrà la squadra di Infantino a Castellabate in provincia di Salerno, regno del Santa Maria Cilento. Per i Verdamaranto un appuntamento che potrebbe avvicinare ulteriormente la famigerata quota di 40 punti, sinonimo di salvezza. È sempre stato questo l'obiettivo dichiarato dallo stesso allenatore siciliano che vede sempre più vicino alla destinazione. Le due squadre sono distanti soltanto tre punti, il che renderà ancora più interessante la partita. Per i campani sarà l'occasione del riscatto dopo la sconfitta patita contro la Cireale. Questo il programma completo della venticinquesima giornata del girone I di Serie D. Domenica 26 febbraio alle 14.30, Trapani a Cireale, Santa Maria Cilento, San Cataldese, Real Aversa, Castrovillari, San Luca, Canicattì, Mariglianese, Locri, Vibonese, Città di Sant'Agata. Con calcio d'inizio alle 15.00, Catania, Paternò, Licata, Cittanovese e Ragusa, La Mezzia Terme. Continuiamo a parlare di calcio. Questa volta parliamo dell'eccellenza. Domenica il derby Gela-Nissa allo stadio Vincenzo Presti. Fischio d'inizio alle 15.00. Dopo la vittoria a scacciacrisi di domenica scorsa in casa contro il Castellammare, La Nissa scende in campo domenica alle ore 15.00 al Vincenzo Presti di Gela, nel derby della ventitresima giornata. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Mazzara e da una classifica deficitaria, che li vede occupare il terz'ultimo posto in classifica e quindi vogliono sfruttare il derby e l'impegno casalingo per affrontare i biancoscudati che, nonostante la vittoria, hanno avuto difficoltà per avere la meglio sul Castellammare che ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Impegno quindi non facile per gli uomini di Alessio Sferrazza che cercheranno di confermarsi provando a vincere questo derby che, ambedue le parti, ha un peso enorme per uscire da zone calde della classifica. Eccellenza, Girone A, ventitresima giornata. Cus Palermo Mazzara, Castellammare Casteldaccia, Parmonval Sciacca, Don Carlo Misilmeri Resuttana, Enna Leonfortese, Nuova Città di Gela, Nissa, Profavara Acragas, Mazzarese, Oratorio San Ciro e Giorgio. Ed ora, volley, serie B2 femminile, sabato, Alba Verde, Caltanissetta gioiosa al Palacannizzaro. Le ragazze nissene puntano al terzo risultato positivo di fila. Reduce da un doppio risultato positivo contro formazioni di bassa classifica, l'Alba Verde scende in campo sabato pomeriggio al Palacannizzaro per affrontare la gioiosa, che all'andata costrinse le nissene al primo stop stagionale. Le pallavoliste nissene guidate dal duo Scollo-Gotte cercheranno il Tris per non perdere terreno dalle due battistrada Zafferane e Pallavolo-Crotone, che avranno i loro impegni casalinghi rispettivamente contro Volley Region e Brico City. Sostenuta dal proprio pubblico, si potrà assistere ad una gara ricca di spugni tecnici che le ragazze devono assolutamente vincere. Appuntamento dunque al Palacannizzaro sabato 25 febbraio con inizio alle ore 18. Volley Serie B2 Girone M 17 giornata Stefanese Fidelis Torretta Alba Verde Gioiosa Cuscatania Planet Funivia Etna Ardenz Comiso Pallavolo-Crotone Brico City Procoriericina Saracena Zafferana Volley Region Basket Il punto sulle squadre nissene invicta verso i play-off La Cusn-Caltanissetta sarà impegnata a Gela Il servizio L'invicta domenica nell'ultima partita di campionato contro la Leonardo da Vinci vincendo è riuscita a mantenere l'imbattibilità nella regular season chiudendo con 12 vittorie consecutive l'annata dei record per i gestisti nisseni Contro la formazione palermitana domenica il coach Giuseppe Spena ha potuto far rifiatare in vista del play-off un veterano come pari dei giusti sostituendolo con il 2006 Antonio Palermo frutto di un gran lavoro che la società bianco-rossa svolge anche con l'Under-19 Adesso quindi testa al play-off di domenica 5 marzo contro il Sant'Agata che tramite sorteggio si deciderà se la prima gara verrà giocata in casa o in trasferta La Cusn invece domenica ha ripreso il suo cammino nella terza fase del campionato di promozione con la vittoria al pala Cannizzaro contro la Fenice Priolo vittoria sofferta dovuta anche al fermo del campionato Adesso per i ragazzi capitanati da Davide Barbera impegno in trasferta sabato a Gela nel derby contro i cugini della Poli Sportiva Basket, promozione, girone D, seconda giornata del terzo turno Salusport, Olimpia Ragusa Polisportiva Gela Cusn Riposa, la Fenice Priolo Questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato Intanto partiamo a livello europeo con un minimo di bassa pressione a largo della Spagna che invierà un corpo nuvoloso sulla Sardegna e in serata anche al centro nord Italia Poi domenica invece giungerà aria molto fredda dalla Finlandia verso il centro nord Italia con crollo delle temperature e poi calo termico lunedì anche al sud Intanto però guardiamo la mappa delle precipitazioni con le piogge sulla Sardegna in mattinata, meglio altrove, giornata abbastanza stabile altrove ma possiamo notare come in serata piogge bagneranno poi le regioni centrali ed il nord est In sintesi quindi quello che succederà con una giornata che sarà inizialmente abbastanza buona ma con piogge sulla Sardegna, poi come dicevamo in serata il nord est e le regioni centrali altrove clima asciutto, al sud superiamo i 20 gradi per lo scirocco Ulteriori dettagli e approfondimenti li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Vizzini, Viale Trieste Servizio notturno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara Servizio notturno, Pasqualino, Vizzini, 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 Vizz